Il caso di dire anno nuovo, speriamo vita nuova per il Bari, almeno questo emerso dalla vittoria per 3-1 contro la Ternana. Certo una rondina non fa primavera, la Ternana non mi è sembrata una squadra particolarmente in salute, però qualcosa di diverso si è visto nel Bari. È bastato inserire un esterno puro come Callon, è bastato ritrovare un maita ai livelli che gli competono e qualche altro giocatore in progresso per vedere anche un Bari più forte, anche se la partita l'ha cambiata Sibilli, giocatore davvero straordinario. Mi sarebbe piaciuto vedere Sibilli nel Bari dello scorso anno, avremmo vinto per distacco, però questo non deve fermare la società sul mercato, bisogna ancora rinforzare la squadra, rinforzarla in maniera potente perché io credo che ci siano ancora i margini per cambiare la storia di questo campionato. Per intanto ci siamo allontanati dalla zona a rischio della classifica, adesso speriamo di poter guardare in avanti e sempre più in alto.